Fabiano mi ha chiesto di aiutarlo ad andare in Svizzera, anche per scaricare da eventuali irresponsabilità le persone che lo amano e io ho accettato di farlo. Sabato siamo partiti, ho guidato la sua macchina per cinque ore, cinque ore in quelle condizioni, non è uno scherzo un viaggio per una persona in quelle condizioni. Siamo arrivati vicino a Zurigo, sabato c'è stata la prima visita medica per verificare le sue condizioni e anche la sua espressione di volontà. Il giorno dopo, stamattina, una seconda visita, una seconda espressione di volontà. A questo punto è stata predisposta la macchina con la quale, in conformità con le regole svizzere, Fabo avrebbe dovuto da solo, se lo riteneva, procurarsi la morte. Non avendo più la mobilità né delle braccia né delle gambe né delle mani, gli è stato predisposto un sistema che lui avrebbe dovuto attivare con un morso, con la bocca, un pulsante. Può essere solo un gesto volontario per la legge svizzera? In Svizzera sì, mentre in Olanda, in Belgio, può essere anche direttamente un medico, ovviamente su richiesta della persona. In Svizzera ciò che è legale è l'assistenza medica alla morte volontaria e quindi è il malato che con le proprie forze deve autosomministrarsi, se conferma la sua volontà ovviamente, deve autosomministrarsi la sostanza letale. Fabiano era in ansia per il fatto di non riuscirci, quando ha capito che ci sarebbe riuscito si è rilassato, ha continuato a scherzare con i suoi amici che erano lì, ha continuato a scambiarsi le ultime parole di amore con la sua famiglia e appena poi ha potuto, ha attivato questo meccanismo e ha scelto di andarsene senza soffrire, in pochi minuti, come appunto in Svizzera è legale e come lui avrebbe voluto fosse legale anche nel suo paese. Lui ha accettato di raccontare la propria storia sapendo benissimo che il Parlamento non sarebbe arrivato in tempo, che non era per lui che combatteva questa battaglia, la sua battaglia personale la stava già combattendo con il tentativo di andare in Svizzera e con la richiesta di aiuto, ma a questo punto aveva voluto anche occuparsi della libertà di tutti, del diritto di tutti, ovviamente senza pretendere di essere un esempio o una bandiera per nessuno, ci sono malati che in condizioni drammatiche possono scegliere una cosa opposta a quella che ha scelto Fabo, l'importante è proprio la libertà di scegliere nel rispetto della legge.